Lance Molise, insieme ai sindacati dell'edilizia, ha incontrato nei giorni scorsi a Campobasso, nella sede della Scuola Edile del Molise, nell'ambito del Comitato di Coordinamento Permanente dell'edilizia, l'assessore regionale lavori pubblici per Paolo Nagni. Alla riunione, che ha riguardato sia il tavolo politico che il tavolo tecnico del comitato, hanno partecipato anche i presidenti della Cassa e della Scuola Edile del Molise e l'ingegnere Agostino Franceschelli, componente del tavolo tecnico. La riunione ha sancito ufficialmente la ripartenza del comitato, i cui lavori hanno rimasti temporaneamente bloccati per la mancata nomina, da parte della regione, del funzionario componente del tavolo tecnico. Risolto il problema, il confronto è ripreso con rinnovato vigore, in particolare il presidente del Lance, Uliano, e i sindacati di settore hanno chiesto all'assessore di avere il quadro chiaro e completo degli investimenti nel comparto delle opere pubbliche. Nagni ha risposto che, nonostante le difficoltà che riguardano la carenza di finanziamenti registrati anche a livello nazionale, la regione ha la volontà di mettere in campo una serie di interventi che potrebbero restituire una boccata d'ossigeno agli operatori del settore. In particolare, l'assessore si è soffermato sulla viabilità cosiddetta minore, per cui c'è la disponibilità di 43 milioni di euro, sull'inizio dei lavori della cosiddetta metropolitana leggera, sul raddoppio della linea ferroviaria Termoli-Lesina, sulla Mignano-Montelungo, la quale sarebbero destinati finanziamenti originariamente stanziati per l'autostrada Termoli-San Vittore, sulla sistemazione della frana, inerente alla Fondovalle-Tappino, sulla sistemazione idraulica Valle della Diga del Liscione. Ance e sindacati hanno ringraziato l'assessore, ma nello stesso tempo hanno manifestato la loro sentita preoccupazione per una situazione complessiva che non fa registrare segnali di miglioramento, come stanno inequivocabilmente a testimoniare i dati provenienti dalla Cassa Idile del Molise su imprese e lavoratori. Subito dopo, hanno concordato di far ripartire il tavolo tecnico del Comitato, stabilendo di rivedersi entro breve tempo per attenzionare le questioni ritenute prioritarie al fine di rilanciare al più presto il settore delle costruzioni, da sempre volano dell'intera economia regionale.